carissime amiche carissimi amici ben ritrovati sul canale di simonetta e buon 25 aprile visto che ci siamo oggi vorrei insegnarvi una una fettisseria un feticcio una macumba che prende forza dall'entità poderosa di yansa yansa la signora dei fulmini dei tuoni dei venti la guerriera la grande guerriera yansa che è sincretizzata con santa barbara nella nelle religioni afro brasiliane nella magia yansa e la signora che è sincretizzata con santa barbara quindi questa dea poderosa poderosissima che andiamo a invocare per cosa per chiedere a santa barbara cioè a yansa il ritorno di una persona che una persona si faccia viva che ci cerchi che ci sblocchi che si muova nei nostri confronti andiamo a chiedere al suo vento ai suoi fulmini che proprio vadano dalla persona e letteralmente la sconvolgano in modo che questa persona che a noi interessa ci contatti e ci vi dia attenzione apro la mia mano vi faccio subito vedere ecco vedete che sul palmo della mia mano ho scritto un nome perché dovete fare questo anche voi come si come si fa questo rituale una penna del colore che preferite io ho preso il blu un pochino di cannella e la vostra mano non importa se è la destra o la sinistra usate la mano che preferite allora come vedete io ho scritto un nome marco rossi e ovviamente voi scriverete sul palmo della vostra mano il nome il cognome della persona che volete che vi ricontatti che volete che vi sblocchi che volete che si faccia avanti che volete che torni da voi lo scrivete a penna semplice così non importa scrivere la data di nascita marco rossi può essere maria bianchi il nome che volete il nome della persona benissimo scritto questo nome prendete un pochino di cannella ne mettete un po nel palmo della mano ne basta poca quindi una cosa più o meno così chiudete la vostra mano e andate dove andate presso una finestra oppure presso la porta di casa e va bene lo stesso e riaprendo la mano voi andate a dire questa orazione poderosa iansà santa barbara signora dei venti e dei fulmini soffia nel cuore di marco rossi in questo caso amore passione interesse per me amen una volta sola ve la ripeto poi ve la metto anche nella descrizione l'orazione magica è questa voi dite poderosa iansà santa barbara signora dei venti e dei fulmini soffia nel cuore di e dite il nome della persona amore passione interesse per me amen a questo punto soffiate fortemente la cannella fuori dalla finestra o fuori dalla porta quindi così semplice così chiedendo a santa barbara a iansà che poi il suo nome africano che soffi nel cuore della persona che avete in mente e lei lo farà perché con santa barbara non si scherza santa barbara è un'entità poderosa potente e molto determinata quindi quando voi chiamate l'assistenza di iansà o santa barbara sappiate che lei non scherza lei fa sul serio fate con fede questo semplice rituale e vedrete gli effetti ovviamente chi prima chi dopo vedrete la persona che non resisterà al vento che santa barbara iansà soffierà nel cuore della persona è una macumba molto semplice come sempre molto antica ma veramente che tutti possono fare quando si può fare sempre non ci sono giorni in particolare non ci sono lune in particolare non ci sono orari lo fate quando vi sentite se volete ripeterlo per qualche giorno potete anche ripeterlo per qualche giorno una volta al giorno voi scrivete il nome il cognome tenete a portata di mano l'orazione ve la ricopiate mettete la cannella e fate tutto come io vi ho spiegato in questo video quindi buon lavoro a tutti tantissimo asce che vuol dire benedizione energia fortuna vuol dire tutte queste cose e con l'aiuto di iansà andiamo a recuperare la persona che se ne è andata che ci ha bloccato che non torna eccetera eccetera un saluto a tutti di nuovo un augurio e a presto con un altro video